Musica Giustizia è fatta, 4 anni e 6 mesi di reclusione ed un milione di euro di risarcimento E' questa la condanna stabilita dalla Cassazione per l'automobilista che nel 2012 uccise il 19enne Giovanni Leonardo L'accusa è di omicidio colposo e violazione del codice stradale So come funziona, sono le prime parole da sindaco rieletto e proclamato Pronunciate stamani da Leo Luca Orlando nel corso della cerimonia tenutasi a Palazzo Young Attenzione verso chi non ha casa, lavoro e salute Settimana prossima annunciata l'ufficializzazione anche della Giunta Sarà Pride Eventi e manifestazioni della settima edizione del Palermo Pride Saranno concentrati nel cuore dell'itinerario Arabo Normanno Il primo luglio la celebre parata dedicata al mondo LGBT dal tema Il Corpo anche come soggetto politico Primi tasselli, ufficiali al Palermo gli arrivi di Tedino in panchina e di Lupo come nuovo DS Rosanero Prevalgono dunque le scelte di Maurizio Zamparini Non più presidente ma ancora padrone delle decisioni nel club Tifosi in protesta Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale Avete appena ascoltato i titoli allora andiamo subito ad aprire con la cronaca Arriva a distanza di quasi 5 anni la condanna per Davud Amidi L'uomo accusato di aver ucciso con la sua auto nel 2012 il 19enne Giovanni Leonardo All'uomo spetteranno 4 anni e 6 mesi di reclusione oltre ad un maxi risarcimento pari ad un milione di euro Giorgia da vita 4 anni e 6 mesi di reclusione oltre ad un risarcimento pari ad un milione di euro Si è concluso così in Cassazione il processo a Davud Amidi L'uomo che nel novembre 2012 investì e uccise Giovanni Leonardo Pizzaiolo di soli 19 anni A quasi 5 anni da quel tragico impatto L'automobilista è accusatora di omicidio colposo e violazione del codice della strada Erano le 5 del mattino quando Leonardo tornando verso casa sua a Piano Gelli nel Palermitano Dopo una serata di lavoro si fermò a chiacchierare con un amico in via Saitta Longhi Una strada a doppio senso nei pressi di corso Calatafimi Fu quello stesso amico a proporre al 19enne di lasciare lo scooter a casa sua offrendogli un passaggio in auto Stavo andando a prendere le chiavi della mia macchina Ha raccontato il giovane al processo ricostruendo le fasi di quella tragica notte Quando ho visto arrivare quell'auto a gran velocità Salito in sella al suo piaggio free Leonardo stava effettuando un'inversione Quando una BMW 320 che sfiorava gli 80 km orari Lo ha falciato sbalzandolo a 30 metri di distanza Nell'impatto l'auto amputò la gamba del giovane senza lasciargli scampo Nulla potrà ridarci indietro Giovanni, commenta il fratello del 19enne Ma almeno abbiamo la consolazione che la giustizia ha fatto il suo corso L'esame del tasso alcolemico inoltre avrebbe dimostrato che Amidi aveva in corpo più alcol del consentito Dieci giorni fa avevano tentato di uccidere un imprenditore tendendogli un agguato Dopo che quest'ultimo li aveva accusati di aver tentato un furto nel proprio oleificio Nella frazione di Pedalini incontrata a Rinazzi tra Comiso e Vittoria nel Ragusano Nella tarda mattinata di ieri la polizia di Ragusa ha arrestato Gaetano e Angelo Calabrese Padre e figlio, quest'ultimo di 18 anni Ultimi due componenti di una banda familiare composta da quattro persone, tutti pastori Che venerdì notte scorso avevano bloccato e preso a sprangate l'auto dell'imprenditore Tentando poi di ucciderlo a colpi di pistola Gli altri due componenti della banda, Francesco e Orazio Calabrese, fratelli di 39 e 37 anni Erano stati individuati e fermati dalle forze dell'ordine la notte scorsa La notte stessa dell'accaduto, grazie alla testimonianza diretta della vittima E cambiamo decisamente argomento perché oggi è stata la giornata della proclamazione ufficiale Per il neo rieletto sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando Insignito proprio questa mattina nell'ufficio centrale elettorale del suo quinto mandato da primo cittadino So come funzionano le sue prime parole e il vantaggio dell'esperienza Ossia il nome che diamo ai nostri errori Sentiamo Traspare ancora grande entusiasmo e orgoglio per la vittoria delle urne ormai quasi di due settimane fa Negli occhi e nelle parole del nuovo vecchio sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando Una breve cerimonia, quella tenutasi questa mattina a Palazzo Jung Nel corso della quale è toccato come da prassi al presidente dell'ufficio centrale elettorale, Gioacchino Scaduto Ufficializzare il risultato delle urne 125.804 voti, ossia il 46,23% Proclamando sindaco per la quinta volta il professore Strette di mano e parole un po' per tutti i presenti Guardando già all'immediato futuro, partendo dalla squadra di governo Quattro nomi nuovi erano stati già annunciati in piena campagna elettorale Alla presentazione delle liste L'imprenditrice Yolanda Ariolo Il direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate Sicilia Antonino Gentile L'ex vice direttore della Caritas Peppe Mattina E l'ex segretario generale del comune Gaspar e Nicotri L'idea sarebbe quella di formare una giunta tecnica senza politici Eventualità che promette già tensioni tra i alleati La prossima settimana ovviamente comunicherò la squadra completa E così potremo la prossima settimana avviare l'attività della giunta E poi dopo attendiamo la proclamazione del Consiglio Comunale Per poter poi in Consiglio Comunale presentare il programma Che ho già presentato agli elettori e che è stato approvato agli elettori Ci occuperemo in questi prossimi cinque anni di chi non ha Di chi non ha caso, di chi non ha lavoro, di chi non ha salute e di chi produce Ci occuperemo un poco di meno di chi ha e non produce Restiamo nel capoluogo perché sempre in mattinata è stata presentata al Teatro Massimo La settima edizione delle Palermo Pride, quella del 2017 Tra le novità la concentrazione dell'evento nel cuore dell'itinerario arabo normanno E il tema che ruota attorno al valore del corpo come soggetto politico Sentiamo I corpi tra politica, desideri, diritti e trasformazioni E il tema dell'edizione 2017 del Palermo Pride Per il settimo anno il capoluogo siciliano abbraccerà una serie di eventi Dedicati al mondo LGBT Per la prima volta si svolgerà in centro città Nel cuore dell'itinerario unesco arabo normanno Dal 28 giugno al 2 luglio il Pride Village si svolgerà nel tratto Tra Corso Vittoria Emanuele e Piazza Bologni Sabato 1 luglio sarà la volta della parata con partenza da Piazza Marina E' la conferma di Palermo capitale dei diritti Il Pride è un'occasione per confermare che noi siamo la capitale dei diritti E quei diritti umani che troppa volta vengono violati in danno di LGBT L'anno scorso abbiamo intrecciato il Pride con la mobilità internazionale Con la migrazione e quest'anno lo intrecciamo con il percorso, con il circuito arabo normanno Le novità sono tante a partire dal tema, che è il tema dei corpi Dei corpi come desiderio, trasformazione come corpo politico E poi naturalmente ci sono tantissimi eventi, convegni legati a questo tema Più la parte ludica che sarà nel centro della città Quest'anno saremo proprio al centro della città, a Piazza Bologni Dove ci sarà il village Naturalmente il top è la parata, che è il primo luglio E che partirà dalle 16.30 da Piazza Marina per finire proprio qui a Piazza Verdi Quanta diritti ancora c'è tanto da fare? Cosa vi ho spiegato? Il prima possibile? Il prima possibile è che l'Italia si doti di una legge contro l'omofobia Siamo uno dei pochi paesi in Europa e nel mondo a non averlo fatto Il paradosso è che abbiamo una legge che riconosce le unioni di fatto Ma non abbiamo una legge contro le discriminazioni Che si è arenata più volte in Parlamento Qualche volta anche in modo molto triste Con le pregiudiziali di costituzionalità Giornata di paura, ieri nei pressi dell'Acquapark di Monreale Quando un vasto incendio è divampato nel pomeriggio Inizialmente incontra da Piccini E poi si è propagato nella zona collinare antistante Fino a lambire alcune abitazioni Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco Che sono riusciti a domare le fiamme Soltanto intorno alle 20 Nella serata, però, a causa di eventi rinforzati I roghi hanno ripreso vigore Raggiungendo una zona densamente abitata E rendendo necessario l'intervento di altre 4 squadre di pompieri Che si è concluso soltanto intorno alle 2 di notte All'operazione di spegnimento hanno partecipato anche alcuni volontari Dell'associazione Overland di Monreale E paura questa mattina nel molo sotto flutti del porto di Milazzo Nel Messinese Un incendio si sarebbe sviluppato Sui resti dell'aliscafo Massaccio L'imbarcazione è danneggiata a causa di un incidente nelle acque di Stromboli E che ormai giaceva da un anno dentro il porto In attesa di essere demolita Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente Ma secondo le prime testimonianze Il rogo sarebbe divampato mentre erano in corso dei lavori Tempestivo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Milazzo Che hanno fatto sì che le fiamme non coinvolgessero Anche un rifornimento di carburanti Situato appena a pochi metri dall'imbarcazione E restiamo a Messina Perché ci si prepara per la riqualificazione della città della fieristica L'autorità portuale consegnerà i lavori per il padiglione centrale e il portale Per le altre opere si dovranno attendere i finanziamenti del servizio La città della fieristica ospiterà ancora una volta nel mese di agosto Le attività commerciali e dispositive che ricordano lontanamente la grande campionaria internazionale 30 giorni di apertura al pubblico come sempre stato Il commissario dell'autorità portuale Nino De Simone garantisce l'evento Ma sono gli attriti con il comune di Messina A pesare sulla possibilità di un autentico rilancio della pregiata area cittadina A fare da sfondo c'è il contenzioso sulla proprietà della città della fieristica L'assessore Sebastiano Pino diversi mesi fa ha tirato fuori dai cassetti documenti Che proverebbero che l'area è in parte di proprietà del comune L'autorità portuale non è d'accordo e non lo è stata nemmeno rispetto al fatto Che i rappresentanti di Palazzo Zanca potessero firmare congiuntamente All'enteri via Vittorio Emanuele i bandi per l'affidamento delle aree Secondo quanto riferito dall'assessore alla cultura Federico Alagna I tavoli congiunti sarebbero saltati anche in relazione agli eventi culturali Da tenersi nel periodo estivo De Simone ritiene che il comune sia un interlocutore privilegiato Ma che tra autorità portuale e Palazzo Zanca non ci siano buoni rapporti è evidente Intanto 2017 con il ricordo della fiera di Messina Mentre sono stati consegnati lavori da 5 milioni e mezzo di euro Per il rifacimento dei padiglioni I lavori non incideranno sulla possibilità di organizzare eventi nelle aree esterne E siamo allo sport Il calcio ufficialità in casa Palermo Che dopo l'annuncio dell'accordo tra Zamparini e Pol Baccaglini Comunica anche il nuovo allenatore L'ex pordenone Bruno Tedino E il neodirettore sportivo Fabio Lupo Ex Torino Monta la protesta in città da parte dei tifosi Il servizio di Lorenzo Ampuso Il nuovo vecchio Palermo va finalmente formandosi ancora e sempre ad immagine Somiglianza di Maurizio Zamparini Ufficializzati gli arrivi di Bruno Tedino in panchine Di Fabio Lupo in qualità di nuovo direttore sportivo Il primo classe 1964 dopo un breve percorso da calciatore Ha iniziato nella seconda metà degli anni 80 la sua carriera da tecnico Allenando nel vivaio di Treviso, Conigliano e Venezia Poi Novara, Pistoiese, Sud Tirole e San Giovannese Fino a ricoprire il ruolo di commissario tecnico delle selezioni Under 16 e Under 17 Della nazionale italiana In questa stagione ha condotto il pordenone fino alla semifinale playoff di Lega Pro Il nuovo DS rosa-nero, anche lui classe 64 Vante invece un passato da calciatore con le maglie di Bari, Ancone ed Avellino Ricoprendo il ruolo di DS a Giulianova, Ascoli, Manfredonia e al Torino E' stato inoltre il responsabile tecnico del settore giovanile della Sampdoria E dirigente di Juve Stabbia e Teramo Confermate dunque entrambe le scelte sotto forma di consigli Del patron friulano Zamparini In barba alle volontà di Baccaglini Che, stando alle voci, avrebbe preferito Massimo Oddo come nuovo allenatore E Marcello Carli come DS Proprio l'ex Empoli, vicinissimo nei giorni scorsi all'annuncio Ha rivelato i motivi del no al Palermo Ho avuto 3-4 incontri con Baccaglini L'idea mi piaceva molto perché vedevo un ragazzo con entusiasmo E io mi ero già mosso anche per l'allenatore Ha spiegato a tutto mercato web La condizione fondamentale era l'assenza di Zamparini Ma viste le ultime novità ho ringraziato e chiuso la vicenda Potevamo fare una bella squadra per la Serie B E fare qualcosa di importante Ha concluso Ho capito che non sarebbe stato possibile fare calcio con un presidente così Per un dirigente è dura avere credibilità Se poi le decisioni importanti è il presidente a prenderle Contestazione ieri al Barbera da parte di un gruppo di tifosi In programma un'altra mobilitazione cittadina del tifo Rosanero Domani pomeriggio alle 18 da Piazza Verdi Davanti al Teatro Massimo E questa era l'ultima notizia Con lo sport si chiude anche questa edizione Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito Vi lascio al meteo A più tardi Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebimeteo Nel corso di questo venerdì persisterà un campo anticiclonico Che darà luogo a stabilità e bel tempo prevalente su tutta Italia Soltanto nelle ore centrali della giornata Qualche breve temporale potrà localmente interessare le Alpi e l'Appennino centro-meridionale Vediamo quindi anche il dettaglio relativo alla nuvolosità Che evidenzia il passaggio di qualche velatura tra il mattino e il primo pomeriggio al centro-nord Ed anche gli addensamenti che come dicevo poc'anzi al pomeriggio Potranno localmente dar luogo a qualche temporale sui rilevi montuosi Vediamo quindi il dettaglio relativo a tutta l'Italia con un cielo in gran parte sereno o poco nuvoloso Salvo questi nuvolamenti pomeridiani su Alpi e centro-sud Appennino Qui non escludiamo brevi locali precipitazioni Notate però le temperature che continuano a salire Le massime su Valpadana e zone interne del centro-sud raggiungeranno anche i 36-37 gradi Valori un po' più bassi lungo le coste ma in un contesto decisamente affoso Con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati Seguiteci su trebimeteo.com Grazie a tutti